Sono state forse le scarpe bagnate o più probabilmente una disattenzione a causare la morte di Alessandro Angelucci, 34enne professore pescarese di storia bizantina all'Università d'Annunzio di Chieti, che ieri pomeriggio è volato giù da un burrone per 40 metri in Turchia, dove stava effettuando un'escursione nella zona naturalistica di Kokali, 200 chilometri a sud-est di Istanbul. È successo tutto in pochi istanti, Alessandro stava bevendo da una bottiglietta d'acqua, poi ha fatto un passo ed è caduto e il racconto di una testimone, una ragazza a zera che si trovava a poca distanza da Angelucci al momento dell'incidente. In Turchia il professore pescarese era giunto venerdì come group leader in un progetto sulla prevenzione dalla dipendenza delle droghe, che ha riunito 35 persone di diversa nazionalità. L'escursione a Karasau era tra le attività ricreative previste con lui dall'Italia, erano giunti in Anatolia quattro giovanissimi partecipanti, tre minorenni, tra cui due ragazze ed un ragazzo, e un 22enne originari del viterbese. A organizzare la loro partecipazione al progetto della ONG turca, Karjenk, è stata l'associazione Prometheus di Viterbo. I quattro ragazzi che, come gli altri membri del gruppo, hanno ricevuto assistenza psicologica dopo l'incidente, dovrebbero rientrare in Italia domani. Per Alessandro Angelucci invece si dovrà aspettare l'esito dell'autopsia disposta dalle autorità giudiziarie turche che si svolgerà a Istanbul, poi ci sarà il rientro in Italia e in Abruzzo.